In teoria il pesce ci si dovrebbe concentrare, speriamo di essere fortunati, noi come al solito queste mazzate le facciamo andando alla cazzo, però stile. Con cosa posso iniziare? Io direi una roba easy, tipo il trago, inizierei proprio con il trago spintail, questa esca della Molix, che nelle mie prime volte, ad esempio prima pescata post lockdown, prima pescata in mare dopo tanto tempo, mi ha dato sempre delle gioie, quindi buttiamo su questo che è da 10.5 grammi, speriamo di prendere un channel in primis, poi boh, qualsiasi cosa che io sono contento. Non so sinceramente, oltre al siluro è il gatto di predatori che ci stanno, caverani, che ci chiamo scorretto. Ah, Lucio Verca, si, vado nel primo lancio cittadino a Firenze, via! Vediamo cosa mi regala oggi, questa giornata di pesca stramba, estiva. che bello, ma hai pescato un piume così grosso, solito i piumi nostri sono piccoletti. Niente? inizialmente guarda in palo tutti i potenti. non si spilti. Non so attribilare un piume così grosso, solito le due a 4 persone trolle le due a un giorno e un piano e un piano. Non solle le due a obstinazione di morire. Doce che se posizia, però non solle le due a un piano. Perché? c'è 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 fra 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 madonna madonna che bestia madonna che botta sono Eccolo, c'è, c'è, fra, 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 madonna, madonna che bestia, madonna, che botta, mamma mia, è un siluro, secondo me, mamma mia, è un siluro, che botta, speriamo di non perderlo, è un siluro sicuro, oh, è grosso, si è infiodato, vengo più qua, non l'ho visto, ma è grosso, una botta assurda, non so se ce la faccio a tirarlo fuori, quando c'è i pesci grossi dico sempre, con calma, eh, con calma, mettiamo la canna, no, ma è il mulinello che me preoccupa, eh, ma, trago, spintail, 10 grammi, ho capito, eh, ma parte, qui ci devo lavorare un po', eh, guarda, è partito, è partito male, ma no, è partitissimo, ha preso corrente, ha dato una botta, questo non lo tiro fuori, calma, io ci credo, calma, ciò che è? Grazie a tutti. Che gli faccio? Non so che fargli. E' enorme. E' stata piena in correnta. Come faccio? E' un volo forte. Un volo forte. Un volo da qua. Non esagerare con la cagna. Non esagerare con la cagna. No, mi porta via tutto. Sì, 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 sì. Sì. Buono, buono. Grande. Spaccia, bastardo. No, no, sta troppo in là. Non so come ha fatto a non romper peggiare. Oh, però se viene qua... E' grosso, cioè, quando hai le testate tu senti bene, guarda. Forca tro... Mamma mia. Mamma mia. Speravo un siluro più piccolo, sinceramente. Che colpa c'è se era piccolo? Eh, scusa, fra... Ma di me, manca mia. Porca... Mamma mia. Mamma mia. No. Sto calato a mano. Quando parte è una bestia. Secondo me è venditili, eh. Ma poi ha mangiato sul trano minuscolo. Non importa, gli è capitato in faccia. Quindi va bene, va bene, va bene, va bene. Va bene o forza? Guarda, 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 oggio. Oggio. Dai che viene qua. Stai a un metro di profondità, non di più. Buono, 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 perfetto. Perfetto, perfetto. No, di là no. No, 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 no. Perché comanda lui. Ecco, ecco lui. No! Porca... Canne all'io... Che coda, ragazzi, che coda! Come. Democrats, che coda. Ah! Ache, te vedi ma? Ache, te vedi ma? Mettere! Mettere! Purt! Uff, che save! Ache, te vedi ma? No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.